Ciao a tutti, sono Antonio ed oggi porto con me delle incredibili novità. Io sono l'altro Antonio e porto altre novità. Sono in arrivo, direttamente dal Salone del Mobile di Milano, i nuovi prodotti in esclusiva qui da Dotolo Mobili. Per questo abbiamo deciso che su tutte le collezioni esposte ci sarà uno sconto irripetibile fino al 50% con la possibilità di pagare la prima rata fra 4 mesi senza un euro d'acconto. È un'opportunità irripetibile, è il momento giusto per acquistare il tuo nuovo divano. Ok, l'altro Antonio è bravo, ma io lo sono ancora di più e ho deciso di omaggiarli, compreso nel prezzo, sia il trasporto che il montaggio. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta. Papà, dimenticavo, questa volta doppieruolo doppia paga.